Oggi 26 marzo, allenamento mattutino con Nicole Reina, faremo un 5x2000 qua sul circuito stradale intorno al campo. Tema riuscire a correre con poco recupero, intorno ai 7 minuti o anche qualcosa sotto. La prossima gara di Nicole, probabilmente la staffetta alla Stramilano insieme a Elena Romagnolo, Carlotta Missaglia e Valentina Costanza. E poi il 15 aprile la tutta dritta a Torino, 10 km e tre giorni dopo c'è l'imbarazzo della scelta qui al meeting che organizzerò io, Walk and Middle Distance Nike, arrivato all'ottava edizione, se fare i 3000 piani o i 2000 siepi. Poi da lì in avanti faremo un po' il punto della situazione. Con lei si sta riscaldando un ragazzo che è venuto qua del Ciade, che si chiama Alima Amati Seine, che è 18enne del Ciade, ha fatto la Stramilano in un'ora 9.45, un buon risultato. Starà qua anche lui un mese, si allenerà con il nostro gruppo e vediamo magari in futuro, potrebbe essere anche tesserato per il Quospropatria Milano. Buongiorno, tutto bene? No, vengono degli altri che sono... Sì, no, subito perché dopo... Sì, no, dai, ferma perché poi dopo... Se vede mia madre che sono in canota, sono in film... Ma il cazzo? Ci ha dato una svegliata. Pensa che c'è ancora 25... Di livello. E che cosa fa lei? Sì, ha fatto anche... Anche la mezza. All'esordio ha fatto un'ora e cattolica. Anche io c'è la pagina che ci ha riprodusso i mille metri da partire. Ah, sì. Va bene. Buon allenamento. Grazie. Parti il primo ciclo. Dai. Non mi rompono le van. Ah, preferito pure... Sì, sì, scusate. Lo vedo duretto sto lavoro. Vediamo sto secondo duemila. È il secondo che stai chiamando? Eh, è il secondo duemila da solo, guarda, è accompagnato. Eh, sei duemila da solo, guarda. Vuoi farlo accompagnare dalla ragazza che le dà la mano? No, lascia. Non si deve capire. 23,30. 23,30. Iscriviti al canale. Ah, ah, yeah It won't advance Clock strikes upon the hour And the sun begins to fade It's still enough time to figure out How to chase my blues away I'm gonna light up till now It's the light of day that shows me how And when the night falls The loneliness falls Oh, I wanna dance with somebody I wanna feel in the deep with somebody A little bit You have to ask the right to pay Three, three Try not to go too fast Eh, it's fine Go, go, go Bene, it's more balanced It's more balanced It's more balanced 4,08 Perfect It's good Massimo has done 6,52 Arriva Eccoli Eh, direi che è buono È ancora sul livello di prima Eh, con un passaggio da 3,25 3,26 Ah, vediamo il passaggio Mi sembra veloce però Ma che idea là si fa vedere qua, qua, qua Eh, la madonna Eh, 3,22 Una roba così Vabbè, dobbiamo anche lanciare il medico Qua, vediamo su Il primo era passato da 4,08 Dove cazzo è questo? Non lo trovo più 22, gambe dure Dai Nicoli 4,03 Ora è il miglior passaggio di tutto l'allenamento E gambe dure Arriva 6,47 6 Buono ragazzi Ha fatto un bel Finora Sforza Un sforzo Affid Conti Tra l'assist un giallo Ha fatto un giallo E praticamente Così S' Redmi Sono davanti P amplified Un anno Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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